Comunque adesso finalmente possiamo dire che il peggio forse è passato, sembra, sembra essere fatto qualche picco e quindi direi che, io ho iniziato a tranquillizzarmi veramente quando i cinesi vicino a casa mia non avevano aperto il negozio, prima di allora non ero molto sereno, poi hanno aperto per ultimi i maledetti, passavo ogni giorno, abitavo vicino a casa mia, passavo ogni giorno per vedere se, se, che cazzo stavano facendo, perché non usciva, era sempre tutto chiuso, un giorno gli ho messo anche due gatti per fare l'esca. Enrico, sì, ma non con cattiveria, era risata, ma non con cattiveria lì a mancare, cosa intendi dire, vabbè, sono fredda. Niente, non sono usciti neanche coi gatti, però con l'umore l'ho sentito nella serrana. Poi hanno riaperto e basta, mi sono tranquillizzato. Quindi direi che finalmente è arrivato il momento di goderci questa estate, queste vacanze, le giornate al mare, le serate in spiaggia, con una chitarra, cantare le canzoni con gli amici davanti a un bel focolaio. Non era un lapsus? Non era un lapsus? E non pensiamoci più.